Buonasera a tutti, siamo qui a sistemare la sala per la conferenza sulle trivelle. Per adesso abbiamo zero... è arrivato già il nostro senatore Petrocelli. Siamo in diretta streaming, sto provando la diretta. Non ho dovuto prendere il treno, ho dovuto prendere l'aereo. Si è scassato un creatore e l'hanno fermato. Ma non ci arriverà più. Poi fortunatamente con due ore di ritardo hanno sostituito il volo e quindi invece di partire... Sono due relatori della conferenza, Ezio Corradi e Vito Petrocelli, senatore del Movimento 5 Stelle. Però c'era che fatta, anche lui è un'ora di ritardo, quindi... Se la fareste. Esatto, gli altri mi aspettiamo. Mi dici come dovete voler... Allora... Grazie, comunque avete... No, assolutamente. Questo è un momento... Silvia, come si sente? Mi manda un messaggio? Come si vede e come si sente? Sì, infatti noi lo stiamo facendo i pellegrinari, quindi... Patrizia, sto facendo la prova di streaming. Ci abbiamo un visitatore per adesso. Se vuoi salutare la bibica Silvia, Silvia Fossi, la conoscerai. No. Silvia, puoi salutarla? Sì, perché mi metterà questa cosa nel suo canale Ustream, nel suo blog. Anzi, andate a vederlo, www.silviafossi.it. È un attivista di quelle... Sì, diciamo... Dopo ci porterà altre persone, perché il suo blog ha tanti contatti. Diciamo che conosce anche Beppe, quindi... Cioè, è... è molta amica di Salvo Mandarazzo. Ah, so. Tu si sente Salvo? Vabbè, che stasera Salvo è... Io l'avevo invitato, volevo che lo facessero. No, stasera in piazza fa una diretta con il Movimento 927, diciamo... Va bene, Silvia, adesso... dopo ricomincio.